Il bilancio della prima tappa di energia d'impresa a Bari è estremamente positivo. Ci siamo interrogati a lungo su dove partire con questa nuova iniziativa. La scelta è caduta nel Sud Italia, una regione troppo spesso tacciata di essere refrattaria al cambiamento e all'innovazione, in particolare la Puglia, una regione che invece si è sempre distinta, soprattutto sui temi ambientali, rinnovabili ma anche efficienza energetica per essere tra le prime pronte ad investire. Un tessuto imprenditoriale molto vivace e ne abbiamo avuto un riscontro nel dibattito che è stato molto animato, molto vivo, con una dialettica e con degli spunti di alta qualità. Sono emerse varie istanze da parte degli imprenditori in questo primo dibattito a Bari. La prima direi è un desiderio di conoscenza, i temi dell'efficienza energetica di cui spesso si parla in generale, poi calati nel dettaglio tecnico sono di difficile comprensione ed è uno dei motivi per cui Sorgena ha deciso di avviare un'iniziativa come Energia d'Impresa proprio per fare informazione e formazione verso le imprese. Ma è emerso anche preoccupazioni per l'incertezza del quadro normativo, legislativo. Ci si è interrogati se debba essere il governo a dettare le linee guida, gli obiettivi alle imprese o viceversa. E quindi anche questo chiaramente può giocare da barriera per lo sviluppo. Devo dire però che nell'efficienza energetica, e questo è il contributo che ho portato al dibattito, il quadro normativo c'è, è recente ed è anche molto chiaro e quindi siamo di fronte a un campo in cui si può investire. Un'ultima istanza che è emersa a gran voce è quella della difficoltà di accesso al credito. Si può avere una normativa chiara e degli obiettivi cari, si può avere un imprenditore che ha capito che conviene investire, ma se non si riescono a rimediare i quattrini è difficile fare le cose. Anche su questo io credo che un'azienda energetica possa dare un contributo utile all'impresa consumatrice di energia, offrendo un aiuto in termini di, per esempio, energy performance contract o contratti di finanziamento. Io penso che la tappa di Bari sia stata davvero entusiasmante. Sono quindi assolutamente convinto che la prossima tappa di Firenze sarà altrettanto entusiasmante, forse anche di più. Per Sorgenia sarà presente l'amministratore delegato Gianfilippo Mancini, quindi in massimo vertice aziendale, tra l'altro una persona che negli ultimi anni si è impegnata concretamente per promuovere l'efficienza energetica in Italia. E quindi io credo che tutte le imprese che sono davvero interessate ad essere informate, a conoscere e a investire concretamente nell'efficienza energetica avranno un'occasione di confronto molto interessante e molto importante. Quindi invito tutte le imprese toscane a partecipare a questo evento il 27 di maggio.